Sì, sei un entusiasmo per la tua vita incredibile, la cosa che veramente è molto felice. Meno male, va! Ma che meraviglia? Siamo subito a fare l'aria l'aria. La nostra azione, a colpare e a traccio, non puoi balanzare l'aria, oscuiti e finiti da anni che sono vuoti. Ma io voglio che noi stiamo facendo per me una cosa straordinaria. Quando si basa allo sport, bisogna essere tutti quanti in più. Mi dai, lei? C'eravamo conosciuto. Anche quando io ero presidente dell'Uni, c'è proprio garante per l'infanzia. Ma lo sport di combattimento è una cosa bella, seria, che insegna altre regole e insegna altre cose. Grazie. L'istituzione, come ha detto il ministro, è la casa del cittadino. La box mi piace e leggi i romanzi sulla box, dei grandi campioni. Grazie. Grazie.